Allora, qui si parla, si parla, ma questi dieci comandamenti, voi mi direte, no? Diciamo, quando sono stati scritti? Chi li ha scritti? Perché li ha scritti? Ecco, insomma, com'è andata? Beh, allora, non c'è un gran consenso, né si può dare una risposta univoca, dato che la Bibbia è stata tramandata di generazione in generazione, non esistono copi originali e nel frattempo sono state fatte aggiunte modifiche a non finire. Si contano circa 40 autori nell'arco di diversi secoli, ma risalire con certezza la fonte è praticamente impossibile. Quel che sappiamo più o meno per certo circa l'Antico Testamento è che comprende quattro fonti. Gli autori sono letterati, religiosi, ebrei e non, e scribi, che stavano mettendo per iscritto leggende provenienti da altri popoli, rimaneggiandole, come spesso succede, per farle accettare di più al proprio popolo. Ad esempio, se anche voi come me non avete mai capito perché Dio metta un arcobaleno per sigillare l'alleanza con gli uomini dopo il diluvio universale, la risposta è piuttosto semplice. Come è facile immaginare in una regione nella quale le alluvioni dei fiumi sono piuttosto comuni e spesso anche dannose? Ci sono diversi miti riguardo alluvioni, diluvi, nei quali un eroe salva tutti grazie alla sua barca. Questo non dimostra che la cosa sia realmente successa, e non entrerò nel dettaglio del perché, ma soltanto che la fantasia umana ha degli schemi e che probabilmente le culture comunicavano tra di loro, passandosi anche le leggende. Le prime traduzioni della Bibbia non facevano riferimento a un arcobaleno, ma semplicemente a un arco, ancora più strano. Questo è perché il dio Asher, che aveva causato il diluvio, secondo il mito di un'altra popolazione, è rappresentato con un arco. E quando promette di non uccidere più gli uomini, sta essenzialmente riponendo la propria arma. Dice, insomma, non lo userò più. Ovviamente questa immagine si è persa con la cultura ebraica, dato che Yahweh non è rappresentato armato, e le traduzioni si sono adattate. Comunque, tornando alla tua domanda, Benigni, non sappiamo con certezza chi abbia scritto la Bibbia, così come sostengono anche vari teologi cristiani. Sono certo che anche la tua risposta sarà ugualmente esauriente. Vero? Anche perché, diciamo, è il più grande racconto del mondo, i Dieci Comandamenti, il più bello di tutti i tempi! Oh, ok. Non è un granché come inizio. Non dovevi spiegare come sia andata la scrittura della Bibbia? Ok, sono certo che sia solo una premessa. Comunque, Benigni, quello dei Dieci Comandamenti non è un racconto. Probabilmente ti sei soltanto confuso, probabilmente intendevi dire la Bibbia, che comunque non è un racconto. Ad ogni modo. Ma non saprei. Io francamente alla Bibbia preferisco, non so, Macbeth, la metamorfosi, Ziovania, per citarne solo tre a caso. Ma se tu, dopo aver raccontato la Divina Commedia, preferisci un libro pieno di ripetizioni e di errori fattuali, in cui un tizio con superpoteri che possono essere sconfitti dalla tecnologia dell'epoca, ossia da banali carri di ferro, comanda in maniera perversa e crudele un popolo, accetta sacrifici animali e umani, e poi pretende anche di essere adorato come una figura positiva, ok, fatti tuoi. Solo non reputarmi complice della tua opinione. La storia dei dieci comandamenti è scritta in uno dei libri della Bibbia che si chiama Esodo. E correzione! In due libri, Esodo e Deuteronomio. Anzi, a dirla tutta ti converrebbe citare solo il Deuteronomio, dove i dieci comandamenti di cui parlerai sembrano essere gli unici per un tempo più lungo. Infatti, nell'Esodo, i dieci comandamenti che tu elenchi sono solo i primi dieci, dopo i quali gli ebrei si spaventano per i tremendi suoni che stanno sentendo, ma poi Dio prosegue detta tutti gli altri comandamenti. E questo ci fa capire che la storiellina che Benigni ha raccontato, nella quale tutto il mondo si ferma in un silenzio dolcissimo mentre Dio parla, è semplicemente una fesseria. Comunque, io personalmente adoro i comandamenti dopo i primi dieci. Contengono ogni sorta di idiozia, che qualsiasi difensore della sacra parola si guarda bene dal citare per probabilmente mantenere un minimo di credibilità. Tra questi ci sono cose come offri sacrifici animali a Dio, pena di morte per praticamente qualsiasi cosa, divieto di mangiare la carne di una bestia trovata morta sulla strada, e cose del genere. Oh, il mio preferito però rimane Esodo 21, da 28 a 36. Un lunghissimo elenco di tutto ciò che deve succedere con i buoi. Se un bue uccide un uomo, deve essere lapidato il bue, non il morto. Però, nel caso in cui il bue fosse solito cozzare con la testa altre persone prima di uccidere qualcuno, deve essere lapidato anche il padrone del bue. Non sto scherzando, davvero, andate a controllare. I comandamenti, che ripeto sono molto più di dieci, sono una lunghissima lista di cose da fare e da non fare che sarebbe potuta essere utile solo a un popolo barbaro e tribale senza alcuna conoscenza di quelle che ora sono regole basilari del vivere sociale e igienico. E tanti saluti alla profondità e universalità dei comandamenti. L'elenco è piuttosto lungo, ci sono cose molto interessanti, ma parliamone quando Benigni ci arriva. Esodo vuol dire uscita. Infatti il libro racconta proprio l'uscita degli ebrei dall'Egitto, circa 3.000 anni fa, dove erano tutti schiavi dell'Egitto e del Faraone, che era l'uomo più potente del mondo, e Dio li libera, si allea con loro, li fa uscire per portarli verso la terra promessa, lo sappiamo tutti. E di nuovo Benigni fa il giochetto di prima, di Dio e l'uomo ragno. Passa da raccontare cosa dica la storia inventata a fingere che la storia sia realmente successa. Dunque, l'Esodo, il secondo libro della Bibbia, effettivamente si racconta della liberazione degli ebrei dalla schiavitù in Egitto, e del loro cammino verso la terra promessa. Si è chiaro però, che queste cose non sono mai successe. Il popolo israelita non è mai stato schiavo in Egitto, non è mai stato liberato da Mosè, e i dettagli di questa liberazione li vedremo dopo, non ha mai passato 40 anni in cammino per il deserto, e non ha mai ucciso tutte le popolazioni con le quali veniva in contatto. Eh già, perché Benigni non lo dice, ma nella Bibbia Mosè, a suo dire parlando per conto di Dio, ordina continuamente agli ebrei di uccidere chiunque si pari loro davanti, in modo da dimostrare di avere il Dio più forte. Altro che immagine eterea e gentile di un Dio misericordioso, quella che Benigni sta tentando di far passare, insomma. Ad ogni modo, come dicevo, nulla di tutto questo reale. Non esistono prove archeologiche di alcun tipo che gli ebrei fossero schiavi degli egiziani. Nessun riferimento al loro popolo sotto schiavitù. Nessun tipo di resto nelle case degli schiavi egiziani che faccia pensare a una preponderante presenza ebraica. E in 430 anni di schiavitù riconoscerete anche voi che sia improbabile. Nessun resto degli accampamenti che avrebbero creato per strada, nessun riferimento di nessuno storico dell'epoca al fatto che due milioni di schiavi siano stati portati via da un paio di individui, dovremmo credere che in 40 anni due milioni di persone, a cui poi se ne sarebbero anche aggiunte altre, non abbiano lasciato per strada nulla. Nulla che faccia pensare che siano stati effettivamente lì. Un vasettino di terracotta, un pezzo di capanna, una tenda e soprattutto 40 anni per andare dall'Egitto alla terra promessa. Ora, questo è il percorso che secondo la Bibbia avrebbero fatto. Ora, a parte che si tratta solo di una congettura dato che è impossibile sapere quale sia il vero Monte Sinai, è anche il percorso più stupido che sia possibile fare. Sì, ok, va bene. La Bibbia spiega perché. Ma la motivazione non ha senso. Comunque, ok. Ammettiamo che effettivamente questo sia il percorso che è stato fatto. Sapete di quanto si tratta? Poco più di 2000 chilometri. Sapete in quanto tempo si potrebbero fare a piedi? A una velocità media di 5 chilometri l'ora, muovendosi anche solo 8 ore al giorno, sarebbero potuti arrivare in 50 giorni. Meno di due mesi. E sono stato anche generoso. Non solo nella Bibbia è scritto chiaramente che camminavano giorno e notte, ma fino al Mar Rosso. Stavano anche scappando da un esercito che li inseguiva con cavalli. E non dimenticate che erano ansiosi di arrivare alla Terra Promessa, quindi avrebbero dovuto fare in fretta. Diciamo però che si sarebbe potuto fare tutto il percorso in 60 giorni. Più 40 giorni di sosta per ricevere i comandamenti. Siamo a 100 giorni. Ok, cambiamo tutto. Diciamo che per qualche motivo non potevano fare 5 chilometri l'ora. Diciamo che camminavano un po' di più alcuni giorni, un po' di meno altri giorni. Ricordate che volevano arrivare a destinazione. Il loro scopo non era fondare nuove città, nulla di che volevano arrivare alla Terra Promessa. Anche se avessero fatto solo una media di un chilometro al giorno, che equivale a camminare per circa 20 minuti al giorno, sarebbero arrivati in meno di 6 anni. Intendiamoci, un chilometro al giorno vuol dire che stavano essenzialmente facendo un picnic lungo 6 anni e si limitavano a spostare l'ombrellone ogni giorno. Benigni, i 40 anni di cammino sono un'invenzione tanto quanto la schiavitù in Egitto. Si è detto brevemente che so che la ragione di queste tempistiche così assurde potrebbe essere il fatto che gli autori della Bibbia usavano un sistema di numerazione diverso dal nostro. Ma finché Benigni e altri commentatori della Bibbia tratteranno quella numerazione come la nostra, io ho il diritto di mostrare l'assurdità delle loro affermazioni. E Dio li guida, cammina con loro, davanti a loro. Benigni, no! Questa è una bugia e francamente sto anche iniziando a non poterne più di dire sempre la stessa cosa. Ma l'hai letta la Bibbia? I casi sono due. O non l'hai letta e ti affidi solo a interpretazioni false da parte di chi l'ha letta, oppure l'hai letta ma hai deciso di scrivere uno spettacolo fatto di rivisitazioni basate sul nulla per baciare i santi culi e incassare un bel assegnuccio. In entrambi i casi non ci fai una bella figura. Esodo 13, 21, 22 Dio si mostra come una colonna di fumo di giorno una colonna di fuoco di notte per permettere di marciare al buio. E cosa ci ricorda tutto questo? Mmm, una colonna di fuoco e di fumo. Mi chiedo cosa potrà mai essere che ha ispirato questa immagine in un paese che si trova di fronte ad un'isola con una catena di vulcani attivi. Mmm, davvero inimmaginabile. Ma non solo. Dopo qualche capitolo Dio spiega anche perché non sta camminando insieme a loro. Esodo 33, 3 e 33, 5 Essenzialmente Dio dice Vi mando degli angeli a guidarvi perché se fossi in mezzo a voi spaccherei tutte quelle vostre testacce dure. E tanti saluti al Dio amorevole che si serve del popolo debole per portare il bene e la gioia. Benigni poi va avanti con altre cose di questo calibro tirando fuori storie e interpretazioni basate su chissà cosa ma di certo non sulla Bibbia. Avrete notato anche che Benigni descrive ma non dà mai riferimenti biblici. Nella Chiesa Cattolica i fedeli non sono invitati a prendere in mano la Bibbia. Viene detto loro di ascoltarla tramite le interpretazioni approvate. Sarà mica perché che se i fedeli andassero a leggere le cose si renderebbero conto della marea di stronzate di cui vengono riempiti fin da piccoli. Comunque le benignesche spiegazioni successive a tratti sfiorano anche il razzismo dato che tratta la storia come se esistessero solo i popoli occidentali. Est-asiatico, America, Australia i cui popoli sono ben più antichi di qualsiasi storia stia raccontando cessano di esistere nelle parole di Benigni che si atteggia anche da saggio filosofo invece che da schomen alla ricerca di un applauso facile. D'altra parte per gli autori della Bibbia il mondo finiva con le nazioni con cui avevano contatti quindi come avrebbero potuto parlare di popoli al di là di un oceano di cui non conoscevano nemmeno l'esistenza e tanti saluti anche all'idea che sia stato un dio onnisciente a scrivere il tutto. Ora stavo scrivendo altre critiche ad altri passaggi ma dovessi commentare tutto finirei col diventare davvero troppo noioso. quindi mi limito a inghiottire tutto quello che vorrei dire anche se magari chissà ci tornerò su in futuro e saltare un bel pezzo di storia per arrivare finalmente alla questione principale Mosè! Da un personaggio tra i più grandi della storia dell'umanità Mosè eccolo è il mio preferito ragazzi non ve lo toccate il più grande condottiero del mondo legislatore guida un uomo meraviglioso umile grandissimo un uomo da volergli un bene da morire oh da morire è l'espressione giusta è il mio preferito ragazzi non ve lo toccate e invece temo proprio che dovrò toccartelo ora non mi interessa come lo descrivi al giorno d'oggi Mosè sarebbe considerato un mostro stando alla Bibbia Mosè facendo la volontà di Dio è responsabile o causa della morte di oltre un milione di persone tra questi ci sono egiziani soldati di altre popolazioni infanti persone che stavano semplicemente raccogliendo bastoncini di sabato esploratori del suo esercito perché portano cattive notizie e civili ebrei gli stessi schiavi che lui avrebbe liberato per non parlare poi delle donne che ordina vengano stuprate dai suoi soldati complimenti benigni se questo disgustoso mostro visionario che agisce sulla base della voce di Dio che sente lui e solo lui è il mio preferito spero davvero di non starti tanto simpatico è davvero una fortuna che Mosè non sia mai esistito tadaaa che che benigni e chi per lui ne dicano non esiste traccia di Mosè da nessuna parte se non nella Bibbia e nei racconti che ne derivano e quante possibilità ci sono che nessuno storico o scriba abbia registrato la presenza di un figlio adottivo del faraone che ha passato la giovinezza a corte dopo essere stato salvato dalle acque e quante possibilità ci sono che sia realmente esistito se teniamo conto del fatto che le storie che lo riguardano sono simili a quelle di altri eroi del culto di Gilgamesh del panteon greco e di altre leggende che giravano in quella zona Benigni comunque sembra crederci per davvero quindi il mio punto rimane e continuerò a parlarne come se fosse realmente esistito complimenti lodare una figura così perversa equivale a comportarsi esattamente come i difensori del caro Lid gli episodi della sua vita li conoscete tutti a memoria sono uno più stupefacente dell'altro più inesistente dell'altro è una descrizione più corretta già dalla sua nascita lui vi ricordate tutti lui nel Nilo salvato dalle acque cioè l'infanzia di Sargon il Mar Rosso che si apre cioè una leggenda comune in molte altre storie precedenti e note in quella zona tra cui quella del faraone Snefru cioè quel che fa Hammurabi col Dio Sole e Shamash oh no piccola differenza le tavole di Hammurabi esistono e sono visionabili da chiunque mentre l'arca dell'alleanza che contiene le tavole della legge esiste solo nei film e piccola nota sull'arca dell'alleanza da Esodo 25-10 fino all'inizio di Esodo 30 Dio descrive con dettagli incredibilmente minuziosi come costruire l'arca come costruire un altare per adorarlo facendo sacrifici animali e come consacrare nuovi sacerdoti questi circa 5 capitoli ossia ben più di quanto sia stato dedicato ai 10 comandamenti sono essenzialmente una costante descrizione di lusso e sprechi i vari manufatti sono pieni di oro intarsi tessuti preziosi il popolo si sarebbe dovuto privare praticamente di tutto per darlo a Dio e gli unici ad avere diritto ad agio e sfarzo sono i sacerdoti e questo in cambio di vittorie militari e come dice Esodo 30-12 per non essere uccisi dal Dio amorevole qualcuno vuole ancora criticare la mia analogia Dio padrino mafioso? ribadisco ancora una volta io non credo che nulla di tutto questo sia mai successo non credo in Dio non credo nell'esistenza di Mosè ma le fedi cristiane si basano su questo testo per impartire le loro leggi per appropriarsi della ricchezza delle comunità in nome del loro amico immaginario e pretendono anche di avere il monopolio sulla morale quando è ovvio che molta più attenzione sia dedicata nel libro allo sfarzo di cui devono godere i ministri di Dio che non ai regolamenti stessi l'eccessiva ricchezza della Chiesa non dipende da una perversione delle regole contenute nella Bibbia ma nella loro perfetta adesione il Dio buono e generoso descritto da Benigni non compare in una sola riga dell'Antico Testamento e la storia intorno ai dieci comandamenti è palesemente solo un raccontino utilizzato dal clero per ottenere sottomissione obbedienza donazioni senza sporcarsi le mani sia mai che debbano trovarsi un lavoro vero e sembra che a cinquemila anni di distanza questa tecnica funzioni ancora più di tremila anni fa in Egitto gli egiziani che sono potentissimi tengono schiavi gli ebrei mai successo però sono proprio tanti sono molto numerosi stando la Bibbia Mosè nel libero a circa due milioni e l'Egitto contava un milione e mezzo di egiziani Benigni per favore allora il faraone si impaurisce sono troppi ha paura di una rivolta e gli viene un'idea dice ai suoi soldati senza perdere troppo tempo sentite ammazzate tutti gli ebrei maschi che nascono così scendono di numero quando nasce un bambino ebreo lo affogate nel nido subito morto capito? insomma è un controllo delle nascite diciamo un po' rudimentale però efficace diciamo e il fatto che tu stia ridendo di una cosa del genere mi fa pensare a un paio di opzioni o sei un sadico o sei doppiamente sadico perché stai pensando a quando Dio farà la stessa cosa agli egiziani in maniera anche più violenta o sai perfettamente che tutto questo non è mai successo ma lo vendi come una storia vera a un certo punto nasce un bambino da una famiglia ebrea ma talmente bello talmente bello che la mamma proprio non ce la fa al pensiero che glielo possano ammazzare no allora lo nasconde di qua e di là passano i soldati non si fa vedere per un mese ce la fa ma dopo vede che lo stanno scoprendo a paura e allora sapete che fa? come sapete tutti gli fa un cestino un paniere ci mette la pesce e il vitume sotto e sopra per non farci entrare l'acqua mette il bambino dentro che sorride bello innocente gli da un bacino e lo mette nel nilo con l'acqua un po' più bassa e lo lascia sperandone il signore come dicevo prima questa è una copia praticamente perfetta della leggenda dell'infanzia di Sargon di Akkad ben nota in Egitto e molto precedente a Mosè ma che dice la Bibbia in merito e fatemi ribadire che queste cose avvengono solo nel mondo immaginario creato dalla Bibbia in Esodo 1 scopriamo che il faraone schiavizza gli ebrei dopo aver realizzato che sono troppi nel timore che si uniscano eventuali invasori scopriamo anche che l'ordine di uccidere i maschi degli ebrei viene dato al popolo non ai soldati da nessuna parte ci viene detto che vengono uccisi tutti non è poi così impensabile che dei genitori nascondano i propri figli nel timore che li uccidano o solo i belli meritano l'amore dei genitori nasce un bambino ma talmente bello talmente bello che la mamma proprio non ce la fa al pensiero che glielo possano ammazzare no allora lo nasconde di qua e di là passano i soldati non si fa vedere per un mese ce la fa Esodo 2.2 ci dice che Mosè viene nascosto per tre mesi gli fa un cestino un paniere ci mette la fece e il vitume sotto e sopra per non farci entrare l'acqua mette il bambino dentro che sorride bello innocente gli dà un bacino e lo mette nel nilo con l'acqua un po' più bassa e lo lascia sperandone il signore leggo testualmente Esodo 2.3 dalla traduzione della Bibbia Cei tenete presente che il soggetto è la madre di Mosè ma non potendo tenerlo nascosto più oltre prese un cestello di papiro lo spalmò di bitume di pece vi mise dentro il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del nilo scusa Benigni mi sono perso il bambino che sorride il fatto che il paniere venga fatto dalla madre il bacino la speranza nel signore e il panierino va nel nilo con questo bambino che ride che vede il cielo inocente prima ho letto Esodo 2.3 Esodo 2.4 dice che la sorella di Mosè sta a guardare Esodo 2.5 dice che Mosè viene trovato piangente dalla figlia del faraone ok 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 fermiamoci un momento so che probabilmente starete pensando che sto guardando i dettagli sono troppo pignolo e si avete ragione sto spaccando il capello in questa situazione Benigni deve intrattenere il pubblico con i suoi metodi strionici deve abbellire il tutto per renderlo più da prima serata Rai lo so ne sono consapevole ma perché lo sto facendo per mostrare come Benigni al pari della chiesa non stia solo abbellendo ma mentendo spudoratamente cambiando le carte in tavola per vendere un prodotto diverso da quello originale l'ho già dimostrato ma lo ripeto così come i dettagli del sorriso del pianto apparentemente minori vengono cambiati anche cose ben più importanti quali le azioni le descrizioni di Dio vengono totalmente stravolte seguitemi nel ragionamento e forse arriveremo insieme al perché molte professioni cristiane stravolgano direttamente e indirettamente i fatti tutti vogliamo essere amati e quindi una volta che questo mostro è stato mascherato da essere amorevole è più facile farlo passare per realmente esistente perché noi vogliamo che esista il passo successivo è mostrare chi non crede o non adora questa nuova versione di Dio come se fosse un nemico per fare questo i ministri di tutte le religioni cristiane ricorrono ad un appello all'emotività sappiamo tutti quanto sia doloroso amare qualcuno senza essere ricambiati e quindi quando vediamo qualcuno in questa situazione per empatia ci dispiace per questo qualcuno spacciando Dio per un essere che ama e chi non crede in Dio come qualcuno che non lo ricambia si demonizzano i non fedeli che diventano dunque il nemico da combattere e mentre i fedeli combattono questo nemico le organizzazioni religiose continuano a fare quello che vogliono avete mai sentito dire o detto ad un non credente Dio ti ama lo stesso non suona tanto come l'amico di un amante non corrisposto che dice alla ragazza amata fai quel che vuoi ma lui per te ci sarà sempre commovente vero e quanto è crudele questa ragazza che non ricambia un amore tanto dolce a parte che l'amore non è dovuto se l'amante non ricambiato è un pazzo omicida che durante una relazione impone regole insensate che pretende di essere adorato ad ogni passo e tortura la propria compagna per ogni trasgressione il suo amore è ancora così commovente e permettetemi di rispondere a una critica che mi potrebbe essere mossa ossia l'accusa che la mia mancanza di fede sia dovuta al fatto che non mi piacciono i regolamenti imposti da Dio e quindi sto solo cercando di evitarli la prima risposta è che se avete seguito il ragionamento il punto di partenza è che l'esistenza di Dio parta da una volontà della sua esistenza e non dall'esistenza stessa la seconda risposta è che anche se fosse dimostrata oltre ogni dubbio l'esistenza di questo specifico Dio sarebbe responsabilità di tutti ribellarsi ai continui massacri ordinati in nome della sua boria e del suo egocentrismo altrimenti saremmo responsabili di genocidi terribili tanto quanto gli eserciti dei dittatori più crudeli della storia stava piangendo e scritto nel libro che hai sotto il naso e la prima cosa che vede da grande è un soldato egiziano che frusta lo schiavo ebreo a morte ma proprio lo sta ammazzando perché non contavano niente erano proprio schiavi allora Mosè vede questa scena e capirai è nella sua natura istintivamente va a difenderlo perché è fatto così è la sua natura attacca il soldato c'è una colluttazione una lotta di qua e di là non si sa come andò insomma il soldato muore Mosè non sa cosa fare c'è la pena di morte si ammazzi il soldato egiziano sei morto cerca di nasconderlo ma l'hanno visto devi scappare e infatti scappa subito Mosè e fa bene perché il faraone si mette subito in cerca di lui ma non lo trova perché è fuggito è già nel deserto Mosè e vai cammina 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 finché arriva in un'altra terra in mezzo al deserto trova una famiglia che lo accoglie gli dà anche del lavoro e si mette a fare il pastore in un'altra terra si sposa e mette su famiglia bravi nigni ce la fai a dire le cose come stanno una sola volta una per favore ho persino messo altre distorsioni nella storia Mosè seppellisce l'egiziano nella sabbia e torna a casa il giorno dopo viene a sapere che la notizia dell'omicidio che ha compiuto sta iniziando a girare e scappa per questo non c'è nessuna descrizione di un lunghissimo cammino non viene accolto in una famiglia che gli dà lavoro come pastore prima di sposarsi non ma perché ci perdo tempo non è neanche poi davvero così importante sentite se volete dettagli e volete vedere come benigni stia ancora stravolgendo il racconto esodo 2 15 fino a 2 25 e l'inizio di esodo 3 io ci rinuncio e l'inizio di esodo 3 e l'inizio di esodo 3 e l'inizio